Ciao a tutti, bentornati nella serie di TimeSplitters, ormai siamo arrivati quasi alla fine, esattamente al penultimo livello ragazzi ambientato di nuovo nel 2401 e si intitola l'incappucciato, quindi Cortez dopo aver scoperto l'esistenza dei cristalli del tempo al di sotto dell'isola scopre che gli assassini temporali del primo livello, della prima missione, la cui venuta era rimasta insoluta e inspiegata l'arrivo di questi assassini è dovuto proprio a Crow che intende fermare Cortez ancora prima che consegni i cristalli del tempo al quartier generale della resistenza umana è una cosa, nella prima missione la descrizione dice che se gente Cortez fa il ritorno da un ardito assalto a una stazione spaziale dei TimeSplitters in realtà la traduzione è leggermente sbagliata perché lascia intendere un significato diverso e cioè che esistano nello spazio appunto stazioni spaziali costruite e abitate da TimeSplitters in realtà non è così perché in inglese poi nella descrizione della prima missione è scritto che Cortez fa il ritorno appunto fa il ritorno da un assalto a una stazione spaziale infestata dai TimeSplitters quindi vi rimando al video precedente della spiegazione di Crow dei cristalli dell'origine dei TimeSplitters per avere maggiori informazioni ma possiamo dedurre che di fatto Cortez in TimeSplitters 2 fa il ritorno da una stazione spaziale probabilmente di origine umana che è stata però attaccata e infestata dai TimeSplitters che posseggono invece una loro tecnologia specifica cioè la nave madre dei TimeSplitters che compare appunto nel primo e nel penultimo livello di TimeSplitters Future Perfect è proprio l'astronave madre che noi di fatto facciamo esplodere, che distruggiamo bene, con questo livello, con l'incappucciato di fatto termina un enorme loop temporale che ha inizio sin dal primo livello e infatti l'ultimo livello, il tredicesimo, è fondamentalmente scollegato da tutti gli altri ed è al di fuori di tutti gli altri perché di fatto l'incappucciato non è altro che un loop temporale però fatto a livello cioè invece di aiutare il nostro noi stessi del passato all'interno di un singolo scenario di gioco di fatto un intero livello è stato dedicato ad aiutare il nostro alter ego ricollegandosi quindi al primo quindi di fatto un intero loop viene chiuso con questo livello e in seguito nell'ultimo potremo finalmente sconfiggere Crow proprio perché si chiude la storia del loop temporale e dell'aiuto ai nostri doppi perfetto lo stesso titolo, l'incappucciato, è un riferimento a... ah qui viene citata l'isola della base segreta di Cronia in questa descrizione stavo dicendo che l'incappucciato si riferisce a un omicidio avvenuto nel 1912 in cui... che è stato risolto soprattutto grazie all'utilizzo della balistica che è un ramo della fisica meccanica che praticamente studia il moto dei proiettili quindi attraverso l'utilizzo della balistica la polizia riuscì appunto a scoprire l'assassino e... e all'interno di questa storia appunto è rappresenta un individuo incappucciato è stato bello qui vedere Cortez appunto che non siamo altro che noi che riesce a liberarsi ora il livello è molto preciso perché è uguale identico era uguale identico a... al primo livello ci sono i stessi dialoghi le stesse intonazioni le stesse frasi ed è molto bello perché appunto è molto preciso ora vedete che viene subito attaccato Cortez se muore lui muori tu ovviamente ricominciamo il livello volevo soltanto mostrarvi appunto Cortez che si libera ora in modalità difficile questo livello è molto appunto difficile scusate il gioco di parole perché Cortez del passato ha uno schifo di energia cioè subisce un sacco di danno gli assassini temporali sono tanti e fanno molto danno e bisogna quindi sempre anticipare noi stessi del passato infatti noi dobbiamo proseguire subito dobbiamo subito andare avanti tra l'altro bellissima la canzone di questo livello e tra l'altro nella galleria il killer temporale o assassino temporale ha questa descrizione assassini spietati e perfettamente addestrati sono del tutto disinteressati alle conseguenze delle loro scorribande temporali questi tizi sarebbero tranquillamente pronti a far fuori mamma, papà o un antenato qualsiasi non vanno troppo per il sottile ma dico io ma noi no? per tutta la campagna per tutta la storia noi Cortez che cosa abbiamo fatto? cioè abbiamo ucciso decine e decine di persone tra scagnozzi soldati militari scienziati guardi del corpo robot cyborg abbiamo ucciso di tutto e di più e di fatto noi non siamo degli assassini scusate c'è uccidendo anche solo un sorvegliante del 2052 non abbiamo di fatto condannato e fatto estinguere un'intera dinastia di persone è cancellato e modificato di fatto tantissimi eventi quindi in realtà è inutile esprimere un giudizio negativo sugli assassini temporali visto che noi siamo esattamente come loro seppur sì magari per una giusta causa ma di fatto noi uccidendo anche un singolo scagnozzo di Kallos abbiamo ucciso a cascata centinaia di altri potenziali esseri umani quindi ok ragazzi iniziamo subito il livello Ania tra l'altro forse molti giocatori non se ne sono accorti ma bello poi il cielo di quest'epoca il deserto tutto distrutto dai time splitters comunque molti forse non ci fanno caso ma ah ho sbagliato perché devo fare il corpo a corpo con i pugni Ania vede con con gli occhi di Cortez infatti Cortez indossa quegli speciali occhiali che appunto sono direttamente collegati a ciò che può vedere Ania ecco perché dice ah guarda eccoti qua ma anche in tantissime altre occasioni fa la stessa cosa vedete la nave madre dei time splitters questa è la nave madre sono appunto i time splitters furiosi che arrivano subito appunto qui sulla terra per distruggere per appunto uccidere Cortez e recuperare i cristalli allora questo gio questo livello richiede molta precisione molta attenzione infatti parlare mentre lo si fa è un po' difficile comunque vedete che i dialoghi sono esattamente gli stessi è bella questa cosa ok quella è la nostra astronave anche se in realtà credo che dovrò ricominciare perché perché tra tenere d'occhio i appunti tenere d'occhio i software di registrazione vedere a chi sparare fidatevi che non è facile comunque nel 2401 come abbiamo anche accennato precedentemente non sono presenti dei robot alcun tipo di robot androidi o quant'altro ecco qua perché perché evidentemente dopo la guerra delle macchine o la guerra dei robot del XXIII secolo gli umani hanno compreso la gravità e il pericolo rappresentati dal costruire e convivere con con robot dotati delle tre leggi della robotica e per evitare ogni tipo di ribellione per evitare che una guerra tra esseri organici e esseri artificiali si ripetesse hanno appunto preferito evitare qualsiasi tipo di di costruzione di di appunto robot e questo è confermato anche nel filmato finale del gioco quando a cui vi accenno nel nel primo video nella prima missione quando il generale è felicissimo che Cortez abbia portato con lui R-110 perché appunto un robot del genere non lo vedeva da da tantissimo tempo no? anche se poi R-110 appunto purtroppo scomparirà a causa appunto del loop temporale è un'altra un altro problema di TimeSplitters 4 era quello di trovare un modo per far continuare la storia noi abbiamo visto che nella sceneggiatura originale un'idea era quella di dimostrare un TimeSplitters sopravvissuto nei laboratori della Ultranet però se ci pensate anche questo è leggermente in contraddizione perché se i cristalli del tempo sono comunque stati distrutti da noi Crow non avrebbe mai potuto neanche creare la Ultranet tanto meno tanto meno i TimeSplitters quindi neanche per definizione neanche un TimeSplitters poteva mai sopravvivere secondo me un modo carino per poter continuare la storia di TimeSplitters secondo me è quella di nuovo reintrodurre Crow all'inizio della sua carriera perché Crow di fatto noi uccidiamo Crow ma nella forma finale cioè nella forma di Splitter Crow e non uccidiamo realmente il giovane Crow quindi secondo me un modo carino per poter continuare la storia di TimeSplitters è di nuovo reintrodurre Crow da giovane e mostrarlo che cerca di uccidere ancora di raggiungere l'immortalità ok bella questa parte mi piace molto questo spazio aperto comunque vedete come le prende Cortez del Passato mamma mia ecco ecco la nave madre e qui ricordate l'errore del ponte cui vi ho accennato nel primo livello praticamente nel primo livello viene distrutto prima il ponte e poi la nave madre adesso invece sarà distrutta prima la nave madre di TimeSplitters e poi il ponte e noi appunto dovremo immediatamente fuggire perfetto ragazzi allora andiamo 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 qua troveremo poi l'assassino temporale ubriaco la nave madre poi molti si sbagliano non è la stazione spaziale di TimeSplitters 2 ma è proprio l'astronave evidentemente costruita da dai TimeSplitters allora in italiano lui dice soltanto tu devi morire ma in inglese mi pare anzi sono abbastanza sicuro c'è qualche linea di dialogo in più in cui appunto se la prende con Cortez e poi appunto cambia idea perché evidentemente da ubriaco non riesce a impugnare l'arma ok allora noi abbiamo poca energia ma tanto non è un problema perché poi noi alla fine non saremo attaccati da nessuno anzi come forse già sapete il problema principale sarà proprio Cortez del passato questa torretta diciamo il concetto alla base di questa che non è una boss fight ma appunto non è propriamente una boss fight però se ricordate anche il robot gigante Goliath viene sconfitto sparandogli addosso in qualsiasi punto ecco perché il danno sarà appunto lo stesso non cambia nulla così anche la nave madre perfetto ragazzi vedete come c'è una distorsione sembra che la telecamera vada in frantumi no bellissimo proprio perché annoiamo il pericolo della morte di Cortez del passato ok avete visto quindi prima è stata distrutta la nave madre e poi il ponte nella prima missione si vede Cortez del futuro che fa una bella capriola ma noi non facciamo purtroppo nessuna capriola ok allora continuiamo checkpoint superata poi ci sono altri assassini temporali tra l'altro loro se la prendono sia con noi che con il Cortez del passato ma nessuno di loro si chiede perché ce ne siano due no? cioè basta che vedono un Cortez e sparano poi loro non sono esseri umani teletrasportati da un'epoca all'altra ma sono proprio nativi del 24 teletrasportati direttamente dal 24 al 24 al 2401 da Crow ok allora quelli sono i barili no? se noi li facciamo esplodere vedi? vedete? li abbiamo uccisi noi ma i soldati pensano che siano stati sia stato Cortez del passato ma in realtà non è bello vabbè questo è qualcosa di scriptato ovviamente questi sono i famosi time splitter furiosi quando sono brutti è il bot comunque più potente i time splitter sono il bot più potente madonna vedete? andare alla fine del livello con questa energia di Cortez del passato è difficile infatti sarà molto difficile ragazzi io varie volte devo riprovare questa parte perché non è semplice questi time splitter sono furiosi ecco similmente a quelli del 2 sono in grado di lanciare delle sfere di energia che fanno molto molto danno ok allora riproviamo una teoria dice che praticamente gli assassini temporali non sono altro che i cosiddetti scorge splitter perché nel 2 ci sono tre diversi tipi di time splitter che sono appunto i scorge splitter sono assassini temporali modificati geneticamente da crew però questo non ha diciamo non ci sono prove per supportare questa teoria di fatto ma è soltanto un'ipotesi ok tutto a posto perfetto allora qui dobbiamo fare attenzione ragazzi perché questi time splitter si sono tremendi ok siccome anche voi avete odiato questa parte no ecco qua allora adesso inizia una parte difficile la parte della torretta viene completamente saltata liceania col generale nel primo livello è possibile vedere cortes del futuro che ci dà una mano ora il segreto è aspettare che cortes arrivi si muova piano piano in tre postazioni predefinite quindi dobbiamo difenderlo ed è difficile perché come vedete i time splitter diventano invisibili ed è difficile mirarli ok comunque ce la dobbiamo fare ora vi dico poi due cose che sono anche leggermente inconcluenti cioè che appunto un giocatore attento può chiedersi anche se come sapete time splitter comunque come abbiamo visto è pieno di incongruenze perché sembra che non tanto che si viaggia poi il checkpoint di questa parte è infame comunque taglierò questa parte stavo dicendo sembra che in realtà il viaggio nel tempo non avvenga su una linea a senso unico cioè non c'è soltanto una linea del tempo ma ci sono diverse linee temporali alternative e indipendenti quindi sembra che il viaggio nel tempo non non avvenga su una linea ma permetta di viaggiare di fatto tra universi paralleli anche se le sfide e la parte arcade di time splitter future perfect non è canon non è canonica nella sfida del caporale art che forse molti di voi ricorderanno c'è scritto che intanto nell'universo parallelo il caporale art cerca di appunto sconfiggere i time splitter e avere un degno ruolo all'interno di questo gioco anche se appunto non è canonica quindi non si può propriamente parlare di universi paralleli porca miseria mi sono perso ah si che dispositivo temporale permette non solo quindi sembra di viaggiare su un'unica linea temporale ma sembra che viaggi su linee temporali alternative in che senso ricordate il discorso del vecchio pazzo cioè che fondamentalmente il vecchio pazzo crow è una versione alternativa di un crow cioè del crow che non ha mai ricevuto la visita nel 94 cioè che non ha mai ottenuto nel 94 il dispositivo temporale e non ha mai incontrato cortez quindi di fatto quel crow è una versione non tanto futura di crow ma una versione alternativa di crow ok intanto parlando parlando siamo arrivati dove eravamo prima poi comunque col fan da fucile fare fuoco di continuo e difficile perché comunque è abbastanza lento però mi trovo meglio col fanta fucile perché ha uno zoom maggiore comunque bisogna fare attenzione a non far arrivare i time splitter al corpo a corpo perché col corpo a corpo sono micidiali comunque nella prima missione di fatto ce la caviamo noi da soli senza l'aiuto di di cortez del del futuro cioè non è che ci aiuta molto ah vedete quanto danno madonna comunque i bot cioè sono veramente scarsi porca miseria forza cortez vai al rapporto da generale ok dai cortez vai 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 ok ce l'abbiamo fatta ragazzi ok ecco questa parte questo pezzo di filmato è presente anche nella prima missione chissà potrei dirgli di cru e dei cristalli del tempo dell'isola forse potrai fermare tutto questo no cortez siamo troppo vicini lo so ok ania portami via da qui ma siamo troppo vicini cosa ecco l'inconcruenza di cui parlavo ma scusa ma tu sei lì sai tutta la storia ma diglielo porca miseria cioè me lo sono sempre chiesto perché non glielo dici poi ania dice siamo troppo vicini siamo troppo vicini a cosa cioè alla fine siamo troppo vicini nel senso alla scoperta della macchina del tempo alla alla sconfitta di crow ma visto che sei arrivato fino a qui e hai visto che di fatto sembrano esistere linee temporali alternative loop temporale eccetera a questo punto tu che sei cortese del futuro mascherato e che sai tutto diglielo a cortese del passato certo se glielo avesse detto la nostra campagna sarebbe durata praticamente un livello ma perché non glielo dici forse non glielo dice perché di fatto nel primo livello noi non riceviamo la visita di un cortese mascherato che avvisa appunto i marine spaziali di tutta la storia e quindi per conservare e mantenere questo loop temporale neanche noi da cortese mascherati decidiamo appunto di non dire nulla a cortese del passato però voglio dire cioè perché non glielo dite a questo punto è un'altra cosa la scoperta stessa dei cristalli sull'isola quando è stata buttata un po' lì perché sapete che gli ultimi tre livelli sono diversi dalla sceneggiatura originale no? sono completamente diversi in realtà il finale è un po' affrettato anche il filmato finale del gioco durerà meno di due minuti quindi immaginate ma quando cortese praticamente torna nel 24 dopo che noi R110 sconfiggiamo Splitter Crow e lui ci dice confessa appunto che ha utilizzato Callos per i lavori sull'isola lì cortese ha come un'illuminazione vi rimando poi al filmato dell'ultimo livello del 2243 in cui ha un'illuminazione dice ah l'isola ma certo ricordate no? ma in realtà c'è dell'isola non se n'è mai più parlato per tutta la campagna quindi anche quella è buttata un po' lì l'ho vista un po' affrettata nel senso che nulla dava diciamo per per assodato suggeriva che l'isola fosse fondamentale all'interno di tutti i luoghi che abbiamo visitato cioè l'isola appariva esattamente uguale a tutti gli altri livelli non era un'ambientazione o un luogo particolarmente importante quindi si vede come anche in questo caso gli sviluppatori abbiano affrettato un po' tutto e abbiano utilizzato un pretesto che regge poco per appunto far capire al giocatore al personaggio di dover ritornare sull'isola questa ovviamente è una mia impressione non so se voi la pensate come me a male in cuore siamo arrivati al 1924 futuro perfetto che si intitola come il gioco è la stessa canzone di questo livello si intitola come il livello cioè future perfect futuro perfetto quindi l'ultimo livello di time splitters futuro perfetto si intitola futuro perfetto e la sua colonna sonora è futuro perfetto bello eh a proposito di loop temporali e quindi Cortez torna a Cronia per trovare e distruggere la fonte dei cristalli del tempo ovviamente lo faremo nel prossimo e ultimo video vi lascio con la sceneggiatura con la scena finale che vi ho tenuto nascosto e alla prossima per concludere questo fantastico videogioco bene ragazzi siamo arrivati alla fine di time splitters future perfect non sapete quanto mi dispiace abbiamo quindi letto tutta la sceneggiatura alla fine di ogni missione in modo da vedere le differenze tra il gioco che è stato pubblicato e lo script originale quello che era stato inizialmente inteso dagli sviluppatori nella scorsa missione vi ho tenuto nascosto diciamo la scena conclusiva e adesso ve la mostrerò nella missione 10 chiamata inizialmente Nemo e ambientata nel 1914 il gioco doveva finire in questo modo ecco qua scena finale vi rimando al video precedente per vedere poi la spiegazione e la lettura delle altre parti magari questo merita di essere letta tutta diciamo allora la scena inizia con Cortes che ritorna praticamente sulla terraferma al castello usa il suo dispositivo temporale connesso alla macchina del tempo per dire ad Ania appunto di riportarlo nel 2401 al quartiere generale degli umani Ania quindi apre un portale per lui lui ci salta dentro e Cortes quindi torna nel 2401 Ania e il generale comunque sono là che l'aspettavano ovviamente e ci sono tantissimi soldati che stanno difendendo la base dall'attacco dei TimeSplitters proprio come nella prima missione e tanti soldati stanno morendo quindi diciamo che la scena è molto cinematografica no? Cortes quindi si inisce la battaglia a cerca di sparare a più creature possibili possibile ci sarebbe dovuto essere anche un cronometro un timer che è appunto un conto alla rovescia per vedere per capire quanto la base segreta sarebbe esplosa e alla fine quando tutto sembra perduto proprio come in un film lo schermo brilla nel senso c'è una transizione verso il bianco c'è una grande esplosione l'isola la base segreta la macchina del tempo tutto viene distrutto e distruggendo i cristalli la guerra con i TimeSplitters non è mai iniziata perché è stata fermata ancora prima che appunto iniziasse proprio perché Crow appunto come abbiamo già detto nei scorsi episodi Crow non ha potuto viaggiare nel tempo e quindi neanche creare i TimeSplitters e così alla fine sul mondo non ci sono segni o comunque sintomi di guerra tutto in tutto regna la pace Cortez Annie e Generale sono appunto vengono mostrati che vivono vite totalmente differenti quindi liberi dalla guerra e poi avrebbero dovuto mettere anche appunto Cortez che bacia Annie all'interno di una giungla tipo GoldenEye che appunto è uno dei videogiochi sviluppati dallo stesso team di TimeSplitters e come negli altri capitoli dove appunto alla fine usciva un messaggio in cui si diceva TimeSplitters ritornerà quindi to be continued ecco nella scena dei post-crediti quindi dopo i titoli di Coda avrebbe dovuto esserci appunto una scena in cui si inquadrava un TimeSplitters all'interno del laboratorio della Ultranet che inizialmente la Ultranet non era nel 2243 ma nel 2401 all'interno di questo laboratorio appunto dovevano esserci ancora dei TimeSplitters quindi sopravvissuti alcuni appunto sono morti e altri invece no no in particolare uno doveva essere ancora vivo e questo appunto avrebbe dovuto essere la premessa per un TimeSplitters 4 e tutto finisce appunto con TimeSplitters will return e questo appunto deve essere proprio l'incipit del sequel TimeSplitters 4 che poi come sappiamo non è stato più sviluppato e che vi spiegherò nel prossimo e ultimo episodio parleremo quindi alla fine anche un attimo della Free Radical e di TimeSplitters 4